Lezione 20 A che ora ti svegli la mattina? Maria, di solito a che ora ti svegli la mattina? Verso le 7 o 7 e mezza Cosa fai dopo? Mi alzo subito, poi mi lavo, mi pettino e mi vesto in fretta Perché così in fretta? Perché devo prendere l'autobus almeno alle 8 per arrivare alla prima lezione Maria, di solito a che ora ti svegli la mattina? Verso le 7 o 7 e mezza Che cosa fai dopo? Mi alzo subito e poi mi lavo, mi pettino e mi vesto in fretta Perché così in fretta? Perché devo prendere l'autobus almeno alle 8 per arrivare alla prima lezione Lezione 20 A che ora ti svegli la mattina? Maria, di solito a che ora ti svegli la mattina? Verso le 7 o 7 e mezza Che cosa fai dopo? Mi alzo subito, poi mi lavo, mi pettino e mi vesto in fretta Perché così in fretta? Perché devo prendere l'autobus almeno alle 8 per arrivare alla prima lezione Maria, di solito a che ora ti svegli la mattina? Verso le 7 o 7 e mezza Che cosa fai dopo? Mi alzo subito e poi mi lavo, mi pettino e mi vesto in fretta Perché così in fretta? Perché devo prendere l'autobus almeno alle 8 per arrivare alla prima lezione Di solito a che ora ti svegli la mattina? Verso le 7 o 7 e mezza Cosa fai dopo? Mi alzo subito, poi mi lavo, mi pettino e mi vesto in fretta Perché così in fretta? Perché devo prendere l'autobus almeno alle 8 per arrivare alla prima lezione